Giacomo Ruggero è un Arezzo che arriva alla sosta sicuramente in un buon momento, avresti preferito comunque continuare il campionato, dunque la sosta può servire anche per ricaricare l'energia in vista poi della volata finale. Sì assolutamente, le energie grazie alla sosta andranno sicuramente ricaricate, però nell'ultimo periodo, in quest'ultima partita stavamo facendo veramente bene e questo non deve essere un motivo che ci può distogliere da quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo pensare sempre partita per partita, la sosta sicuramente ci aiuterà a riprendere le energie, ma guarderemo alla prossima. Adesso ci aspetta la San Giovannese in casa e la testa è già lì. Ecco è un Arezzo diverso nell'ultimo mese e mezzo, al di là poi della striscia positiva con il ritorno di Mariotti. Cos'è cambiato rispetto all'inizio di stagioni in cui oggettivamente siete andati al di sotto di quello che ci aspettavamo dall'Arezzo? Beh sicuramente come impressione personale penso che in quest'ultimo periodo abbiamo fatto veramente un gruppo unito, coeso, che sa dove vuole arrivare e ripeto pensando gara dopo gara senza farsi magari idee future, vince, prova a giocare, a fare un gioco e prova a vincere e ci stiamo riuscendo. Quindi sì, secondo me è un gruppo più unito e che sa veramente quello che vuole.